Prima fila per Pompon Pride, Nougat del Cigno, Lin Almar, Marcel Griff, Pellegrino Getto, Ossigeno Bigi, Nicolas BF e Onnilest. In seconda fila, Pick and Go e Rapporgio Iuso. Alla chiusura delle ali, Pompon Pride e Nougat del Cigno, i più veloci. Largo Onnilest, poi è Nougat del Cigno ad assumere l'iniziativa impegnata da Onnilest che cerca di ritagliarsi una posizione alla corda. Ci riesce all'imbocco della prima piegata. 200 in 13 e mezzo. Pellini esterni, Pellegrino Getto. Si arriva così al completamento del quarto iniziale. Finiti a tabellone sia Olin Almar e Marcel Griff. L'andatura è sostenuta con Pellegrino che avvicina Nougat del Cigno. 28 e 8, il quarto iniziale. Si oppone l'indilen di Peppe Ruocco. 600 notevoli in 43 e 4, aria di lotteria. Pellegrino è costretto al percorso esterno. In seconda posizione alla corda Onnilest a precedere Pompon Pride. Dal largo si è sistemato in seconda pariglia Pick and Go che adesso abbandona la posizione e muove in terza ruota. A caccio della leader. 58 e 9, gli 800. Non muove le mani Peppe Ruocco. Pick and Go in terza ruota. Si oppone ancora Pellegrino Getto. Chilometro in 1'13 e 5. Problemi per la leader che sbaglia. Lasciando Pick and Go al comando. All'imbocco della piegata conclusiva. 3 quarti di miglio in 1'27 e mezzo. 14 secchi di frazione. Pick and Go ha preso in largo. Dalle retrovie si fa vedere Rapport Joyos. Rapport Joyos a caccia di Pick and Go. Retta d'arrivo. Pick and Go richiesto. Rapport si avvicina. Battute conclusive. Pick and Go mantiene la posizione. Pick and Go va a vincere nei confronti di Rapport Joyos. Mentre per il terzo potrebbe essere il numero 6 di Ossigeno Biggi. Una serie di colpi di scena in questa corsa. Alla fine si afferma alla grande Pick and Go che inizia la progressione agli 800 conclusivi. Approfitta della rottura della battistrada. e va a concludere alla grande a media probabile di 1'13 e 6. Il training di Giacomo Perfetto per il portacolori della signora Angela Rossetti. Gaetano Di Nardo, interprete preciso. Rapport Joyos al secondo. Precede Ossigeno Biggi. Quindi 9'10'6 e l'arrivo probabile ed ufficioso.